Un pilota che non ha dubbi se essere crossista è il più grande di tutti i tempi, Stefan Evers. Stefan Evers dimostra di sapere andare forte anche in un ambiente per lui nuovo. È secondo assoluto per tre secondi, guidando come solo lui sa fare. In questa prima giornata deve però inchinarsi a uno straordinario Stefan Merriman che inizia con una vittoria assoluta la sua ultima gara con la Honda 250 del team Franco Mayer. C'era molta attesa per vedere il più grande crossista al lavoro a fine tappa ed Evers non delude, dimostrandosi un grande professionista, arrivando a cambiare entrambi i pneumatici in neanche dieci minuti come i piloti più esperti. La partecipazione alla sei giorni è quasi una festa di fine stagione per Stefan, in gara per puro divertimento e per una specie di sfida scherzosa con Franco Acerbis, organizzatore di questa gara. Vedere Stefan Evers in azione è un vero spettacolo, anche in sella a una Yamaha praticamente di serie. Giuseppe Gallino, arrivo la prima giornata, cosa è successo oggi? La sfida tra Stefan Evers e Juha Salminen si fa sempre più interessante. Il finlandese vince tre delle cinque speciali, ma una caduta nella terza gli fa perdere 15 secondi. Stefan Evers continua a divertirsi andando fortissimo, dimostrando che anche con una moto di serie si può lottare per il vertice assoluto. La 4,50 è di nuovo sua. Walter Fortichiari è l'angelo custode di Stefan Evers. Stefan Evers sta già sudando. Il caldo del Brasile per molti è un ostacolo in più, ma non certo per un fisico allenato come il suo. Le cadute di Merriman agevolano la vittoria di Stefan Evers, oggi davvero incontenibile, al punto di recuperare tutto lo... Uno stile elegante e inconfondibile, quello di Stefan Evers. Nella classe 2,50, senza De Mester, Merriman non ha problemi a regolare ancora una volta tutti gli altri. Secondo è il belga Thierry Kluz, quindi lo statunitense Kurt Caselli. Poi, Yanni Lassi ha fatto anche Salminen, anche lui arrivato a quota 7, e che può vantarsi di avere vinto il mondiale e l'assoluta con moto di ogni cilindrata. Così come Stefan al motocross delle nazioni ha vinto con la squadra, ma ha perso la sfida con Ricky Carmichael, Juha vince la 6 giorni, ma perde la sfida individuale con Evers. Ultimi chilometri per Stefan Evers, che per correttezza dovrebbe però restituire la sfida a Salminen e a tutti i piloti del mondiale in una gara che abbia caratteristiche più tipiche dell'enduro di quanto ne ho. Sostenuti dalla bravura di ragazzi come Maurizio Micheluz, oggi settimo di classe. Grande entusiasmo per l'arrivo di giornata di Stefan Evers, che festeggia assieme agli appassionati italiani. Stefan ha scoperto uno degli aspetti più belli dell'enduro, l'amicizia che lega tutti i piloti e tutti i tifosi, indipendentemente dalla nazionalità. Eccolo poi scherzare con Salminen e Aro e quindi cedere alla richiesta di un bambino che vuole scambiare la maglia e i guanti di Stefan con una maglia di Ronaldo falsa. Stefan Evers prepara la partenza come ha fatto tante volte nel motocross. Pochi dubitano che vincerà. Parte bene Botturi, ma la sfida è tutta tra Evers e Salminen con il campione finlandese che dà il massimo. Ma è impossibile battere Evers in queste condizioni, visto che a tempo perso si diverte anche con il super motard. vince Evers davanti a Salminen. Botturi è sesto di Manche e il magnifico terzo nella generale di classe. Micheluz è nono, sancendo il secondo posto dell'Italia nel trofeo mondiale e il terzo nel trofeo junior. grazie a tutti! grazie a tutti!